Avevano cominciato con frutti seriali in bar e tabaccherie di San Vito al tagliamento, puntando in particolare ai soldi contenuti nelle slot machine e a biglietti delle varie lotterie gratta e vinci. Se trovavano i tagliandi giusti, si spostavano in provincia di Bologna per incassare le vincite, ma non si sono evidentemente accontentati alzando giorno dopo giorno l'asticella della temerarietà con colpi sempre più complessi e rivolti in questo caso da aziende ed imprese commerciali. Il nucleo era composto da quattro cittadini rumeni e un albanese, ma parecchi altri elementi si giustravano via via in questa organizzazione, fino a quando i carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno chiuso il cerchio sul gruppo criminale, arrestando sei persone e denunciandone altre nove. Sarebbero responsabili di aver compiuto i furti in aziende, esercizi commerciali e abitazioni un po' in tutto il nord-est, ma in particolare nelle province di Pordenone, Treviso e Venezia. Le indagini coordinate dalla procura di Pordenone hanno permesso di sequestrare cinque auto e tre autocarri, rubati poco prima, oltre ad attrezzatura edile e meccanica varia, ma anche 400 kg di posaterie in argento, contenuti in cinque casse asportate da un ristorante di Jesolo. La merce aveva un valore complessivo di circa 400 mila euro. Ora gli arrestati sono stati associati nelle case circondariali di Bologna, Treviso e Padua.